Ciao persone ghettorose, benvenuti o bentornati sul mio canale E giustamente pensierete Ennesimo book tag Ebbene sì, ennesimo book tag sia Sono stata attaccata sempre da Maria di MyWickedWorld O mai mi tagga da voi per tutto Io ti ringrazio perché mi piace fare questo genere di video Come sai E ti saluto e lascerò il link qua sotto ovviamente come sempre E davo un sacco che non faccio video quindi sono un po' Non so se mi capite però spero di sì Allora, questo si chiama Thank You Next Boot Tag Non so chi l'ha ideato Io sarò taggata da Maria appunto Quindi lascerò il suo link qua sotto E iniziamo Io non ho preparato le risposte quindi Bello Allora, domanda numero uno Scegliere un libro a cui è detto Thank You Next Questo libro l'ho letto tanto Premetto questa Però sempre Forever D.M. Angel Perché fa proprio schifo Scusa Seba di Lettor Sombrero Perché a lui è piaciuto Seba san Lettor Sombrero A lui è piaciuto tanto Il tuo forse non gli è piaciuto tanto Però il primo sì Però Thank You Next Cioè io ho il secondo libro L'ho comprato E non l'ho ancora letto Perché non mi viene voglia di continuare con la saga Quindi ce l'ho lì Però Non lo so quando lo leggerò Quindi Next Quello lì proprio L'ho finito con fatica Ma l'ho finito Però no Non ce l'ho fatta Non mi è proprio andato giù Scegli un libro Che hai amato Io non lo dico Lo dite voi Perché io lo dico sempre Le croniche di Magnus Bain E in ogni singolo video lo dico Quindi È un po' impossibile che non lo sappiate Però vabbè Le croniche di Magnus Bain Poi Un libro che ti ha insegnato A essere paziente Harry Potter Perché Alcuni capitoli Li ho trovati noiosi Ad esempio Nel sesto mi pare Quando c'è il cambiamento Del ministro Babano Una roba del genere Era una palla Volevo abbandonare il libro Figuratevi Però mi ha insegnato a essere paziente Perché comunque Ci sono dei colpi di scena Magari verso la fine Magari all'inizio Magari in mezzo Quindi Cioè La saga di Harry Potter Sì Mi ha insegnato a essere paziente Sembra strano Però sì Poi anche Ogni volta che doveva Aspettare o l'uscita del film O l'uscita del libro Cioè Ero in ansia Perché Soprattutto del settimo Perché non sapevo chi morisse Come finisse Cioè Quindi Ero in ansia Quindi mi ha insegnato a essere Molto molto paziente Nell'attesa Di aspettare Il sequel Quindi sì Poi Scegli un libro Che ti ha fatto Soffrire Questa domanda Non so se interpretarla Soffrire nel senso Che mi è piaciuto Però è un libro Abbastanza Tosto E quindi fa venire Tipo da piangere Un libro Che ho fatto fatica A finire Perché Non mi piaceva Quindi Non so Che interpretazione dare Dico Che soffrire Nel senso Che Non molto lento Mi piace come libro Però Lo sto leggendo Molto molto a rilento E S La nave di tesio La rilettura Sinceramente Perché È una rilettura Quella che sto facendo Perché Si legge in una maniera strana Quel libro Si legge una prima volta La storia Finta Del libro Si legge La seconda volta Con degli appunti diversi La terza volta Con degli altri appunti Quindi Diciamo che Mi fa soffrire In quel caso Perché io la sono La gialletta Però devo ripeterla Devo rileggerla Per scoprire chi è E Sono un po' indietro E questo è il secondo punto Cioè Soffrire Un libro che ho già letto Ma faccio fatica A rileggerlo Perché Appunto Bisogna rileggerlo Per scoprire tutti i dettagli E allora è quello Nel caso Della prima frase Che ho detto Nel senso Che è un libro Che mi è piaciuto Però È molto molto pesante È lo stesso caso Perché hanno ucciso A mezzanotte Perché è molto bello Come libro Fa molto riflettere Perché parla anche Di una malattia Che è l'autismo Però È molto bello E soffro Perché è triste Come libro Quindi soffro Per quel motivo Lì non per altro Scegli un libro Che hai Che hai amato All'epoca Che ti piaceva Veramente tanto E che ora Non ti piace più Ma che comunque È riuscito A trarre qualcosa Di positivo Lo stesso Come ripeto Prima Non ho Le risposte pronte Quindi non so Cosa Posso dirvi Però credo Narnia Perché Narnia Ho letto I primi libri Singolarmente Poi ho preso Il mattone Quello con tutti i libri Dentro Ho provato a rileggerlo Però Non è più Come un tempo Non trovo Non trovo più Quel mondo magico Che mi piaceva All'inizio Anche se È sempre Stato lì Quindi Se ho bisogno Di leggere Qualche pagina C'è E quindi Sempre resterà lì Scegli un libro Che ti sta Prendendo Un libro Che stai leggendo Attualmente Sceglio qua In realtà Non ne leggo Solo uno Ma ne sto leggendo Ben tre Il re E il suo giullare Queste sono delle pagine Che studiare meglio La vita del re E sono Un po' Indietro In realtà Sono Tipo Qua E devo leggere Ancora Tutta questa parte Però prima o poi Lo finirò Poi per una specie Di challenge Barra gioco Che abbiamo fatto In un gruppo Io Seba Di Sebastian Lector Sombrero Marco Di Shadow Books 98 Che dovrà riprendere Il canale Ellen Che non mi ricordo Mai il suo canale Però lo lascio sotto Comunque Metti Di Club Metti Io sono stata Sfarteggiata Ne Marco Doveva scegliere Un libro Tra tre Che avevo in mente Già di leggere E lui ha scelto Shadow Black Tra l'altro Ho regalato da lui E sì Ho ben iniziato In realtà Sono alla fine Della prima parte È caduto il foglietto Bene Però lo sto leggendo Prima o poi L'ho finita E sto leggendo Anche il secondo Di Lady Midnight Che qua sono già Una buona parte Sì Il primo l'ho finito Dopo tanti anni L'ho finito E sto leggendo Il secondo Questi tre Sono quelli Che sto leggendo Attualmente Poi Scegli un libro Che ti ha Che è rimasto E che ti ha aiutato A crescere Allora Vorrei dire Harry Potter Perché Come ho detto prima Io sono cresciuta Con Harry Potter Il primo l'ho finito Quando ero piccola Il secondo Quando ero più grande Fino al settimo Che è praticamente Orore superiori Praticamente quasi E quindi Sono cresciuta Con Harry Potter Però Per non dire La solita Zulf Perché tutti Lo dicono Harry Potter Chi ha letto Harry Potter Dice Harry Potter Dico anche La serie Diceo Hunters Perché anche Quella serie Mi ha aiutato A crescere Mi ha aiutato A In un periodo buio Della mia vita Mi ha aiutato Ad andare avanti A sorridere A ridere A piangere Perché mi ha fatto piangere E quindi dico Sia Harry Potter Sia Shadowhunters Non posso scegliere Né una Né l'altra Da sole Singularmente Perché Hogwarts È sempre lì Mi chiamerà sempre Tornerò sempre a casa E anche I miei amici Né film Mi chiameranno E sarò a casa Anche lì Quindi Non posso scegliere Né uno Né l'altra Tutte e due L'ultimo è il tag Non voglio taggare nessuno Perché adesso Non mi vengono in mente Chi taggare Perché penso che L'abbiano già fatto Anche altre persone Però Chi vuole fare Chi lo vuole fare Chi mi segue Può rispondere O qua sotto Nei commenti O fare un video risposta E dirmi Le vostre risposte E che io guarderò Ovviamente Se volete Il tag finisce qui Grazie a Maria Per avermi taggato E spero vi sia piaciuto Anche se Appunto Non avevo risposte pronte Più o meno Erano simili A tutte le altre Risposte Delle altre tag Ma non ci posso fare niente E alla prossima Ciao Ciao Bisogna Grazie a tutti Grazie a tutti